Finale di partita fra F Volley e Cav Callico, siamo in compagnia di mister Porcino. Qualche impressione su questa partita, su questa sconfitta forse un po' troppo netta? Sconfitta troppo netta, due squadre con obiettivi totalmente diversi, una forza completamente diversa. Da una parte la squadra di casa che sicuramente merita tutto quello che sta facendo in questo campionato. E noi che piano piano, mollica dopo mollica, cerchiamo di rimanere in questo campionato che è la cosa che più ci interessa. Senta, proseguo del campionato, come diceva lei, scendono solo due squadre. Voi siete in una condizione abbastanza tranquilla secondo lei oppure dovete lottare partita per partita? Siamo sicuramente partita per partita e sono certo che una e le due squadre sicuramente non saremo noi. Grazie mister Porcino, arrivederci. Grazie. Grazie.